Ben ritrovati amici, oggi Curiosi di Professione vuole parlare di misteriosi denti a spirale. Per farlo dobbiamo tornare indietro fra i 360 e i 300 milioni di anni fa, cioè nel periodo carbonifero, quando la Terra era molto umida, piena di paludi e delle prime foreste. In quel periodo storico viveva un curioso parente degli squali chiamato Elicoprione, che possedeva denti disposti a spirale che ricordano una sega circolare. In effetti sono stati finora ritrovati dai paleontologi solamente i fossili di questa bizzarra dentatura e nel complesso l'animale resta molto misterioso. Non sappiamo nemmeno se questo terribile predatore carnivoro potesse utilizzare la terribile dentatura per mangiare pesci, crostacei o cefalopodi. Lo scopriremo mai? Chi lo sa? In ogni caso, a presto!